salve a tutti io sono ginevra de benci e oggi vi porterò la scoperta del mio ritratto che è stato dipinto da leonardo da vinci tra il 1474 ed il 1478 la tecnica che ha utilizzato leonardo è stata tempera e olio su tavola le dimensioni sono di 38,8 x 36,7 centimetri ora il mio ritratto si trova alla national gallery of art di washington ora passiamo alla storia io fui figlia di amerigo benci ricco banchiere e forse amico del padre di leonardo chiamato serpiero da vinci mi sposai nel 1474 con luigi di bernardo di lapo nicolini la mia famiglia fu molto legata all'attività di leonardo a firenze tanto che in casa benci conservata l'adorazione dei magi lasciata incompiuta però dopo la partenza di leonardo per milano pensate che sono ricordata anche da lorenzo il magnifico come una delle donne più colte della società fiorentina dell'epoca e infatti questo dettaglio è stato identificato grazie alla presenza sullo sfondo di fronde verdi di ginepro che alludono al mio nome per paronomasia il retro richiama l'emblema di bernardo bembo con cui io ebbi uno scambio epistolare ciò anche fatto ipotizzare che il committente del ritratto fosse l'ambasciatore veneto a firenze l'opera già nel palazzo dei benci entrò prima del 1733 nelle collezioni dei principi del lichtenstein a vienna poi trasferite a vaduz come testimoniato da un sigillo in cera rossa sul retro con le armi del lichtenstein e la data il 10 febbraio del 1967 la galleria statunitense acquistò il mio quadro dal principe francesco giuseppe secondo del lichtenstein per una somma di pensate di oltre 5 milioni di dollari proprio un vero record per quei tempi ora passiamo alla descrizione allo stile in questo ritratto sono raffigurata mezzo busto di tre quarti girata verso destra è risaputo che il dipinto venne decurtato in epoca imprecisata di almeno un terzo nella parte inferiore tagliando via le mani che probabilmente erano danneggiate originariamente le proporzioni di questo ritratto dovevano essere molto simili a quelle della gioconda le mani dovevano essere in una posizione emblematica come nei più famosi ritratti di leonardo e secondo alcune testimonianze dell'epoca dovevano assomigliare nella posa a quelle della dama del mazzolino e di verrocchio ginevra cioè io indosso una veste con scollatura chiusa da lacci e una camicia bianca e sottilissimo dal collo mi pende una sciarpa nera che incornicia il petto e le spalle l'acconciatura che avevo era tipica nell'ultimo quarto del 400 a firenze quindi con i capelli raccolti sulla nuca lasciando liberi alcuni ricci a incorniciare la fronte in consueta però è la mancanza di accessori gioielli che testimoniano la ricchezza della mia famiglia infatti fui io a richiedere di essere ritratta così rompendo così con la tradizione dei ritratti dell'alta borghesia evidente al confronto dell'artista con la pittura fiamminga che tentò di emulare nelle delicate luminescenze dei capelli e nel colorismo analitico l'ombra del ginepro esalta infatti il chiarore espressivo del mio volto le cui delicate sfumature vennero ottenute anche col caratteristico tocco diretto dei polpastrelli il colore della mia colciatura si evolve in quello della veste e dello sfondo paesaggistico secondo un continuum cromatico che testimonia la capacità vinciana nell'uso del timbro bruno castano in varie tonalità in lontananza si apre un paesaggio con tutti gli elementi cari a leonardo specchi d'acqua campanili torri appuntite e montagne il tutto è trattato con toni azzurrini secondo le regole della prospettiva aerea l'ambientazione all'aperto è molto insolita soprattutto per un ritratto femminile grazie